Delle buste, una di queste buste contiene un bel premio, è un dato. Tira il dato e in base al numero che esce prenderai la busta. Cinque. Vediamo il premio. No. 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 Vai, ti ho donato la possibilità. Uno. Magari, sei con tu. No, no, no. No, un'altra possibilità. Lato. Tre. Dai che la volta buona, lo sento. Ecco. No. Non sei molto fortunato nel gioco, ma magari in amore. Vai. Vai. Perfetto, il sei. Stavolta la volta buona. Eccolo. No. No, 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 no. Niente premio. Ma ci sono amassi due buste solamente. Quindi hai un'altra possibilità di portare a casa il premio. Chissà in quale busta starà. Vediamo. Vai. La quattro. Sarà la volta buona? Sarà la volta buona? No, purtroppo. Controlla, controlla. Il premio era nella busta 2. E che premio, eh? Che premio, ragazzi. 100 euro. Fantastico. Il premio era nella busta 2. Il premio era nella busta 3. 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 Grazie.